Finalmente sono riuscito a settare il mini computer da portare con me in giro, a posto di portarmi duemila baracche e baracchine e cose del genere, per i miei concertini, i miei streaming, i miei cazzati. Vabbè sono 50 euro quindi di computer, però c'è tutti i plug-in che voglio, uso libero e il suono, il suono rende. Eh, la sto studiando? Eh, sto facendo un'e-comic! Al contrario invece mi è venuta molto bene il suono. Sono entrato un po' in... Eh, minchiavonte! 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 Poi c'è il corso... Poi c'è il corso... Poi c'è il corso... Un argolo del corso... Poi c'è il corso... Poi c'è il corso... Il corso... Grazie a tutti. No, sto facendo le prove che sto così, no, dovete vedere il cosino, cioè no, dovete vedere da dove esce il suono, hai capito? Cioè perché io adesso ti faccio vedere il computer dalla quale esce tutto questo casino e questo qua, vedi? No, 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 non è quello grande, no, no, è questo cosino qui, eccolo qua, eccolo qua. Esce tutto da qua. E ho fatto una specie di mini pedal board da portarmi in giro e niente. Costo veramente proprio minimo. Poi, vabbè, ci puoi fare anche streaming e cazzi vari, però a me piace usarlo proprio... proprio per sentire gli effetti della guitarra. Io non devo montare tutto il casino, hai capito? Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non malo, non malo. Ciao ragazzacci, buona domenica, eh?